ciao ragazze ciao ben trovate ben trovate a tutte buon pomeriggio buonasera buonanotte buona mattina qualsiasi ora sia che voi state visualizzando il mio video oggi nuovo video video tag che ho preso dal canale di paola style ciao paoletta tanti bacioni allora io ho visto questo video tag sul canale di paola e non ho potuto resistere perché io amo adoro le borse quindi come avete potuto vedere dal titolo questo video tag sulle borse non ho potuto resistere ho promesso a paola lo faccio sicuramente allora cominciamo con la prima domanda dunque innanzitutto premetto che io si amo tanto le borse quindi per questi motivi negli ultimi nell'ultimo decennio le borse mi vengono spesso regalate io veramente quelle che compro che ho comprato io sono veramente pochissime perché proprio perché sanno che adoro le borse le le me le regalano come dite a vedete qualcosa di nuovo sì allora sì effettivamente c'è qualcosa di nuovo è il mio bellissimo tatuaggio dedicato alla mia divina icona madonna e dedicato al film che per me personalmente parlando ha dei significati molto forti e ho tanti buoni motivi del perché mi piace questo film adesso non sto qui a menzionarveli però ho deciso di tatuarmela e bon che almeno mi rimanesse per tutta la vita chiaro e inciso il mio amore smisurato per madonna comunque detto questo chiusa piccola parentesi si è una cosa nuova comunque e quindi stavo dicendo che le borse mi vengono spesso regalate e a volte sono borse che comunque si attengono molto ai miei canoni o comunque ai miei gusti altre volte invece no però si sa che a cavaldonato non si guarda in bocca allora iniziamo con la prima domanda dunque domanda numero uno abbini il colore della borsa a quello delle scarpe o ai vestiti dipende dipende perché io non ho tantissime scarpe sono la maggior parte sono sportive per l'estate primavera estate e ne ho qualcuna in più per l'inverno e autunno ma comunque sono sempre sullo scuro e quindi alla fine marrone nero e un paio di colori sempre su bronzo comunque scuri e quindi un po elettrico comunque mamma mia sembro che ho preso la scossa comunque e quindi non è che sto tanto ad abbinarle perché comunque non ho una miriade di scarpe colorate che quindi allora devo avere una borsa per ogni tipo di scarpa alla fine ripeto sei colori anche se un tipo facciamo finta dieci paia di scarpe ma sono cambiano una dall'altra ma i colori sono sempre più o meno gli stessi ecco che allora è più facile abbinarle quindi anche coi vestiti diciamo un nì diciamo un nì seconda domanda qual è la tua borsa di tutti i giorni ne hai una apposita per ufficio scuola università lavoro eccetera eccetera sì la borsa di tutti i giorni è adesso vi faccio vedere quella che ho momentaneamente è questa infatti scusate ma è anche piena è questa qui è una borsa un po sportiva diciamo ma capiente con due belle sacche una e l'altra qui dietro ha un'altra tasca qua dietro e un'altra qua davanti con una bella tracolla perché io assolutamente la tengo a tracolla proprio infilata perché quando vado in giro voglio averla così di modo che anche in macchina cioè io in macchina la borsa non la appoggio sul sedile io in macchina la borsa la tengo così a tracolla e sopra la cintura assolutamente ho il terrore non di essere scippata no il terrore di perdere il terrore che mi cade il terrore che insomma e quindi in questo modo io mi sento sicura e questa è una borsa che praticamente c'è un banco molto carino al mercato qui da noi al sabato che ha queste borse che in realtà non è che sono firmate ok non sono cinesi però non è un banco dei cinesi è una coppia e hanno queste borse un po così variano quelle più piccole dai 12 euro e quelle un po più grandi 15 20 euro di pede quindi non sono grosse cifre ma per tutti i giorni credetemi questa sono già tre anni che ce l'ho e io con queste borse praticamente vado fino a quando in quando si squarciano che allora incomincio a dire ma forse è meglio che la cambio però vi posso garantire che anche se ce l'ho tutti i sacrosanti giorni mi dura tantissimo e vado avanti con questa ed è comoda perché è capiente poi avendo anche un bambino si sa la bottiglia dell'acqua i giochini questo e insomma sono sempre piena di roba terza domanda quale quale borsa quale borsa scegli per una serata in discoteca o al pub allora permetto che in discoteca io non vado ma quando andiamo al pub siccome noi frequentiamo dei locali sempre a tema visto il nostro lavoro e passione che sono in teoria la stessa cosa frequentiamo dei locali anni 50 o comunque che abbiano qualcosa di inerente di americano usa e quindi io ho due borse che di solito utilizzo molto di più d'estate devo essere sincera ecco qua allora la prima io non ricordo assolutamente se mi è stata regalata dove e o quando l'ho presa perché tantissimi anni che ce l'ho non ricordo assolutamente ogni tanto ci penso quando la metto dico ma dove caspita l'ho trovata sta borsa anche perché mi fanno tanto i complimenti mi fanno tanti complimenti e quindi però tanto io dico parte che non ho mai più visto in giro però anche fosse non saprei dove caspita l'ho presa ed è una pochettina in poche parole guardate che piccola è veramente minimal proprio con la bandiera americana tutta quanta fatta di paillettes brillucicose fighissime a questa tracollina che poi ovviamente non è che si mette così e cioè la tieni così a questa tracollina in in raso con queste perline qua ecco qua è piccolissima sono sincera ma comunque più che un rossetto un lucida labbra è giusto la patente per dire e magari una cazzata non è cellulare non metto dentro nient'altro quindi veramente piccola sempre piccola ma leggermente più capiente è una borsa allucinante perché anche questa è da pazzi da fuori di testa che dice ma che cavolo di borsa è però questa borsa qui me l'ha regalata questo invece sono da dove arriva me l'ha regalata mio marito eravamo in svizzera a un raduno di auto e c'è lì in svizzera trovate dei questi raduni si trovano del bancarelle ovviamente non sono di gente italiana sono sempre oggi tedeschi o svizzeri e hanno delle cose pazzesche e io mi ricordo che avevo ad occhiato questa borsa un po strana così e mio marito quasi per farmi uno scherzo me l'ha regalata pensando quasi di prendermi in giro invece io anche una piega l'ho adorata e da fuori di melone perché tanto io sono fuori di melone quindi va benissimo per me ed è questa c'è già guardate è una lattina praticamente ok eccomi la si fa da specchio eccomi la e è come una lattina a questi tre funzioni sotto di modo che quando voi l'appoggiate non rotola alla sua il suo manichino forse forse da qualche parte dovrei avere anche la tracollina ma non l'ho mai usata si apre con questo bottone che questo qui addirittura è fatto a forma vedete di tappo di bottiglia si apre e dentro ecco qua è tutta rivestita in tessuto vellutato di velluto vedete veramente piccola anche questa alla fine forse ci sta qualcosina di più che l'altra però anche questo veramente minimal ma a me piace un casino con queste con queste tutte queste targhe della route 66 del texas insomma di tutti i paesi gli stati dell'america ecco ok mi piace un casino e la uso appunto per queste questi eventi poi andiamo avanti con le domande ecco qua quale borsa ti ha deluso di più allora la borsa che mi ha deluso di più che mi dispiace dirlo perché come dicevo prima cavaldonato non si guarda in bocca però io a me questa borsa mi piace un casino ma purtroppo anzi primo poi la butterò perché non è più non è più possibile metterla me l'ha regalata una mia amica che sa che a me piace all'epoca vabbè anche adesso per carità però era impallinata con lo spank e allora mi ha regalato questa bellissima borsa di vernice scusatemi un po schiacciata perché appunto è tanto che non la metto mi ha regalato questa bella borsa in vernice molto capiente tipo bauletto scusatemi ecco bauletto molto carina sotto c'ha anche i tacchetti per farla stare quando è piena sta in piedi senza cascare giù con una cerniera qui insomma è abbastanza capiente dell'unico acqua c'ha anche guardate che bello ha il gancetto fatto come con la testa di spank magari questo potrei anche togliere volendo prima di buttarla l'unico guaio anche una tasca interna morbidissima capiente da morire perché guardate che grossa che è l'unico guaio è che dopo poche volte che l'ho messa e che io la roba l'ho tratto comunque bene qui i manici guardate spezzati in due spezzati in due letteralmente di qua e questo questo no quelli dietro no e poi c'era anche qualcos'altro che era successo se non mi sbaglio non ricordo più mi sembrava di ricordare anche uno squarcio da qualche parte nel rivestimento ma forse mi confondo a poi qui era saltata via anche la vite che tiene il il coso vedete qua che manca dove che tiene fermo il coso qua però vabbè questo ancora ancora non niente a eccolo lo squarcio eccolo qui ecco qui c'era un c'è veramente io l'ho messa tipo tre quattro volte sta borsa mi si è aperta in questo modo con i manici così cioè voi direte ma perché non la butti effettivamente si la dovrei buttare c'erano in fondo in fondo all'armadio insieme a tutte le altre borse l'ho tirata fuori proprio perché l'ho visto detto questa sicuramente risponde alla domanda che della borsa che mi ha deluso di più altre un'altra borsa che mi è stata regalata aspettate nato perché guardo forse che ecco questa è dopo quindi andiamo avanti quindi la borsa che mi ha deluso di più è quella perché purtroppo mi è quale borsa hai voluto per molto tempo e alla fine hai acquistato no non l'ho acquistata perché mi è stata regalata ed è una borsa della moma boma le moma boma per chi non le conosce sono delle borse che sono praticamente costosissime perché sono esemplari unici cioè questa ce l'ho solo io fatta così ma non il modello nel senso con questi giornali ce l'ho solo io la moma boma utilizza i giornali le stampe vecchie dei vari anni decenni che sono state per realizzare queste borse se voi volete io vi lascio anche il sito qua sotto magari nell'info box metto il link del sito così voi andate a vedere e capirete meglio cosa vuol dire quando si dice che sono veramente borse uniche costano un botto e proprio perché la lavorazione è particolare anche perché questa non è una stampa questo è un giornale un giornale vero che è stato trattato specificatamente per fare la borsa fanno i portafogli fanno le pochette fanno tanti tipi di cose però ripeto non è il modellino nel senso questo baulettino così è proprio la stampa tutto non ne troverete una uguale a questa e magari chi ce l'ha non ce l'ha uguale a un'altra 100 borse 100 una diversa dall'altra e tutte rigorosamente fatte con carta di giornali originali vi ripeto vi lascio qui sotto per chi non le conoscesse vi lascio il link così andate a vedere e sicuramente riuscirete a capire meglio di cosa sto parlando quindi questa borsa io la desideravo tanto in realtà non proprio quel modello cioè la volevo media piccola c'è non esageratamente grossa e non esageratamente colorata perché poi ci sono anche i modelli quelli magari più estivi che sono più colorati ecco quello sì e niente e quindi la borsa alla fine mi è stata regalata e bon l'ho desiderata tanto ma alla fine mi è stata regalata andiamo avanti qual è la borsa più brutta che hai la borsa più brutta che ho anche questo è stato un regalo di compleanno è una borsa che io giuro ma forse non ho neanche mai messa o forse l'ho messa una volta sola ma mi sono vergognata perché ho detto non è possibile è una borsa che c'è veramente allora il manico ancora ancora perché oltretutto il modellino non è brutto ma è proprio come è fatta però ripeto questo è il mio giudizio magari un'altra che la vede dirà che figata di borsa è una borsa che mi sembra cioè non è tanto per la rete ma proprio con queste cose qua dentro c'è della carta quindi rumore non guardate non badateci mai della carta che avevo messo dentro cioè no veramente è una cosa pazzesca e cioè è brutta è brutta io non riesco a farvi vedere il colore che ha perché è un colore un po su rosa leggero rosa biancastro quasi e ha poi tutte queste paillettes che sono una cosa a meno a mio gusto ripeto mostruosa non non ho parole per descrivere quanto è brutta per me ripeto questa borsa andiamo avanti qui dice c'è lavoro dunque sette poche borse ma buone o molte borse ma di qualsiasi qualità allora io non sono una mercatara ripeto a parte la borsa questa qua per tutti i giorni io non vado a comprare né dai cinesi né al mercato le borse da 5 euro 10 euro così perché comunque io sono dell'idea che le cose che si pagano poco durano anche poco quindi anche se una borsa che magari metto una volta al mese o una volta all'anno comunque mi deve durare deve essere robusta deve essere insomma nei canoni standard delle cose decenti quindi io ne ho tante ma sono tutte quante di media media di medio costo poi ne ho anche parecchie che sono costose come quella lì che vi ho fatto vedere prima poi ne ho una della guest che mi hanno sempre regalato un compleanno ne ho addirittura una quando l'ho visto detto persino paura di usarla e della non è di dolce gabbana e della quella della guest si della louis vuitton esatto è una cosa enorme oltretutto per quello che la metto pochissimo perché è enorme e anche quella della guest è una cosa enorme così e la uso proprio giusto quando dobbiamo stare via magari degli interi weekend che proprio allora devo portarmi fare vecchie cose poi dipende dalle dalle circostanze ecco ma cosa stavo dicendo però appunto a parte quelle non ho dei canoni né troppo esagerati né troppo bassi diciamo che però preferisco averne meno ma buone ok buttiamola così poi ripeto tutte le altre comunque mi vengono regalate e quindi li purtroppo voglio dire li canoni valono un po otto doma ottava domanda scusatemi consiglio una borsa contracola per fare shopping allora io non è che bella posso consigliare io mi posso dire quella che uso io quando vado in giro soprattutto in centro o magari in posti un po più affollati che è piccola però è compatta e mista anche a volte sotto il cappotto soprattutto d'inverno perché comunque ho il terrore perché se uno va a fare shopping si presuppone che si porti un po più di soldi giusto quindi ed è questa piccolissima con una tracolla io la trovo comoda da morire è piccola lo so però più che la patente le chiavi della macchina il telefonino e il portafoglino boh io sono a posto non ho bisogno di nient'altro questa anche l'avevo presa sempre in svizzera in quelle bancarelle che vi dicevo c'è merlin e sul vestito qua davanti a questi svaroschini che danno un tocco di luce di qua per esempio svaroschini non ci sono perché questa è la parte davanti in teoria ok all'interno è rosa molto carina e l'avevo vista ho detto ma guarda che carina è piccolina mi piace boh e scusate ma c'è allora scusate se un attimo torno subito ma c'è il gatto che sta rompendo che vuole uscire sì ce l'ho fatto scusate ma sono dovuta andare a aprire il gatto perché guardate era lì che ululava come un pazzo quindi ho dovuto andare ad aprire dunque stavo dicendo che sì siamo passati all'altra domanda è vero ho perso il segno scusatemi allora l'altra colla per fare shopping quindi non ha domanda è qual è la tua borsa con il colore più acceso allora quella che vi ho fatto vedere prima a modi lattina diciamo quella lì è quella più chiassosa nel senso che ha tanti colori però per più colorata ma non troppi colori sicuramente penso che sia questa eccola qua purtroppo con la luce si vede un po una schifezza ma è color turchese è un bellissimo color turchese e in paglia con i manici come piacciono a me veramente vedete ecco questo questo è il modellino simile a quella che vi ho detto prima che era una chiavica quella con tutta la rete da pescatore perché vedete che comunque il manico rotondo così ed è fatto in questo modo però questa in paglia c'è tutta un'altra cosa comunque lasciamo perdere e a questa questa qui la spilla che si può togliere si può mettere non l'ho messa di era proprio così e questa borsa qui l'ho presa che era era dell'avon e dell'avon di parecchi anni fa forse chi di voi tra di voi mi segue e fa la presentatrice dell'avon sicuramente è facile che se la ricorda è però io dico quasi dieci anni fa sì all'incirca quasi più o meno sì è molto carina ovviamente è estiva ovvio perché è estiva ecco io infatti l'estate la uso spesso e cosa c'è qua dentro che l'ho cercato come una pazza ecco dove era finito il mio reggiborsa guardate adesso ve lo faccio anche vedere mentre ci siamo tanto si parla sempre di borse questo è un reggiborsa che ho fatto io perché quella borsa lì è scomoda perché avendo i manici rigidi come cavolo faccio non posso neanche agganciarla alla cosa della sedia allora mi porto sempre quando ho quella il mio reggiborsa e dall'ultima volta che l'ho usata quella scorsa estate è rimasto lì dentro vedete io lo appoggio così al tavolo e poi aggancio sotto la borsa mannaggia dove era finito l'ho cercato come una disperata vabbè trovato ecco qua ci avevo anche fatto la decorazione fatta da me con la pizza guardate che carina eh mani di pata comunque tornando al discorso delle borse meno male che ho trovato tutto coso perché adesso comincio ad usare le borse quelle lì e mi serve l'ultima domanda è 10 qual è la borsa dei tuoi sogni ma che non hai ancora acquistato allora io in realtà c'è una borsa che mi piacerebbe ancora avere ed è sempre della momaboma e non l'ho ancora acquistata spero che un'anima buona arrivi a regalarmela perché ma in realtà la desidero sì ma non ne faccio una malattia nel senso che se arriva bene se non arriva non importa se riesco a comprarla bene se non non ci riesco pazienza i giochi di mio figlio pazienza e però ripeto non è che sto facendo una malattia per sta borsa però sicuramente è un'altra borsa della momaboma perché a me piacciono veramente tanto sono molto versatili e poi di quel tipo lì vanno bene d'inverno d'estate insomma quindi diciamo che posso utilizzare veramente un po' come cavolo mi pare quindi sono comode anche per quello e niente forse l'unica è quella come modello penso che se dovessi scegliere ovviamente ne prenderei un modello magari più arrotondato ma come dimensioni all'incirca come quella perché alla fine ho guardato che effettivamente ne ho tante di borse veramente tante però quelle che uso più di tutte sono quelle sempre di queste dimensioni qua perché come vi dicevo prima quelle due grosse che ho le uso ma veramente poche volte e quindi penso di sì sicuramente la borsa tra virgolette dei miei sogni che però ancora non ho comprato sarebbe un'altra di momaboma dunque ah boh basta le domande sono finite erano 10 io adesso poi ve le scriverò qua sotto così se anche voi volete fare il video tag potete farlo tranquillamente niente io ringrazio ancora paola benché lei non è che mi abbia taggato veramente perché lei tagga sempre tutti nel senso siete tutte taggate e lo ripeto anche per voi siete tutte taggate chi vuole farlo fa chi non lo vuole fare non lo fa se volete lasciare un commento se volete dirmi un'opinione delle borse che ho fatto vedere ditemi pure fatemi pure sapere io con questo vi saluto spero che vi siate divertite spero che il video vi piaccia e vi lascio al prossimo video che non si sa quando verrà fatto con questo vi saluto bacione a tutti ciao ciao e alla prossima ciao